in questa lezione parlerò di impianti dentali e carico immediato carico immediato significa andare a per esempio mettere un tassello nel muro e caricare subito il quadro con suo peso nell'equivalente diciamo del settore odontoriatico significa mettere degli impianti dentali in bocca e subito la stessa giornata andare a mettere dei pernetti che fuoriescono dalla gengiva ok qua c'è l'osso qua invece c'è la bocca e andare a caricare sopra subito dei denti provvisori che poi verranno cambiati dopo un toto di mesi che le gengive sono guarite su delle ferite comunque fresche cosa ci fa decidere se fare o meno il carico immediato semplicemente il torque quindi il torque che cos'è la forza di avvitamento dell'impianto all'interno dell'osso cioè più è stretto e quindi più era duro più era compatto l'osso e più si è sforzato per mettere la vita nell'osso e più è probabile sopra andarci a caricare i denti già dopo l'intervento come sappiamo noi esattamente che tipo di torque abbiamo avuto quando si avvita l'impianto ok inizialmente si fa con degli strumenti automatici verso la fine l'impianto viene stretto con delle chiavi dinamometriche sono delle chiavette che arrivati a un certo valore quindi di forza di avvitamento a un certo punto si piegano quando le chiavette si piegano o comunque ce ne sono di diversi tipi ci sono quelle che si piegano quelle che non si piegano che hanno una molletta che ci indicano guarda che l'impianto è abbastanza stretto nell'osso se quel valore ha un certo livello di newton di torque nello specifico deve essere superiore ai 35 45 newton allora noi abbiamo le condizioni per poter mettere i denti già sopra gli impianti dentali quando invece questo non è possibile quando gli impianti hanno un torque inferiore oppure siamo in presenza di innesti di osso dove abbiamo innestato osso cosa succede che l'impianto all'interno dell'innesto dell'osso se non è un impianto trattenuto da una quantità da una superficie adeguata di contatto con osso e con un torque sufficiente quando si va a masticare le vibrazioni trasmesse dall'impianto all'innesto osseo che è stato messo faranno trasformare il tessuto non in tessuto duro ma in tessuto molle quindi si ha il rischio che l'impianto non integra oppure che viene espulso oppure che sembra che è integrato però poi cede sul medio lungo termine cosa ci fa decidere ci fa decidere diversi fattori anche quanti impianti abbiamo su cui poter caricare certo che più impianti abbiamo a disposizione meglio è perché le forze masticatorie vengono distribuite su più impianti questo è il concetto del carico immediato il carico immediato ha una percentuale di insuccesso superiore rispetto al non caricare subito gli impianti noi ricordiamo che per esempio al nostro policlinico stiamo trattando già casi molto complessi molto rischiosi pazienti che hanno infezioni osso che va in maniera massiva ricostruito andare a fare spettacolo show è un qualcosa che mette a rischio il paziente stesso la nostra reputazione noi lavoriamo con facebook con internet e tutta la luce del sole quello che diciamo prima prima di iniziare al paziente guarda per noi la cosa più importante che il caso vada bene non accelerare i tempi di guarigione non forzare la natura andando a sfidare i limiti di sopportazione e di riparazione dei tessuti questo era ciò che occorre sapere sul carico immediato carico immediato sì carico immediato no dipende noi lo sappiamo solo durante la fase chirurgica quando sappiamo esattamente quello che è il torpio di inserimento degli impianti sono i macchinari stessi che ce lo dicono altro diciamo di veramente importante da dire non c'è quello che invece occorre conoscere è la suddivisione che per esempio noi facciamo tra le tipologie di impianti ovvero impianti standard o impianti premium questo lo vedete nel prossimo video un saluto da dottor palmas